Nome? Nino Frassica. Mio nome è Luigi Capitaneo, in arte il professore di Foggia. Avete mai fatto diete dimagranti? Se io ho fatto una dieta a Milano e in un mese ho perso 6.000 euro. Le diete dimagranti non le ho mai fatte, però ho fatto le diete che si mangiano, anche perché io sono nato in Mesopotamia. Cosa avete mangiato? Allora, ieri sera mi sono mantenuto leggero, ho fatto una bella zuppa di fagioli con le cotiche, un pollo ruspando arrosto ripieno con castagne e tartufi. Io ho petti di pollo di tacchino e funghi intrufolati. Il dolce? Approfitterò. Un tiramisù di un chilo, un chilo e mezzo, perché me l'ha detto la dottoressa che devo stare a dieta. In quale città portereste la ragazza dei vostri sogni? Madrid, è bella. Questa si mangia bene, la pasta alla madrigiana. Allora, la ragazza dei miei sogni la porterei in Madagascar, perché in Madagascar, come voi ben sapete, c'è stata la moria delle vacche. E allora tutta la merda l'hanno tolta e è rimasta la cioccolata. Un proverbio. Chi mangia caluccia e chi gnotta volete? Dimmi con chi vai e ti dirò che ora sono. Il gesto che fate più spesso? Questo. Ah! Beh, voglio salutare a tutti, grazie di questa grande intervista. E poi volevo salutare il nostro grandissimo amico Nino Frassica. Grazie Nino, sei un grande, ti voglio bene e va a farvi la chita e molto. Ciao!